Buonasera, mi chiamo Rosalia Marino, sono direttore della Casa Circondariale di Novara e in missione anche presso la Casa Circondariale di Aosta. Ringrazio innanzitutto il Circolo dei Lettori per avermi dato la possibilità anche di essere qui presente in questo giorno così importante, il giorno della Festa della Repubblica, con queste voci, tutte al femminile, sulla Costituzione. Mi è stato chiesto di commentare due articoli della Costituzione italiana, l'articolo 13 e l'articolo 27, due articoli abbastanza impegnativi come un po' tutti gli articoli della nostra Costituzione. Articolo 13 pone un principio fondamentale, l'inviolabilità della libertà personale. Cosa dice l'articolo? E' il primo articolo, dopo i dodici relativi ai principi fondamentali, che apre la parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini, e quindi esordisce con un primo diritto insormontabile dell'uomo, la libertà. Quale diritto? Inviolabile. Non intendendosi soltanto per libertà, la libertà fisica, cioè il diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica, ma anche come libertà morale, cioè il diritto di manifestare il proprio pensiero o la propria fede religiosa. Circa l'inviolabilità della libertà personale va rilevato che questa non viene enunciata in modo generico, ma è garantita da tre pilastri specifici. La riserva di legge, secondo cui unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità in cui è possibile limitare la libertà personale dell'individuo. La riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere provvedimenti limitativi della libertà, e la motivazione dei provvedimenti, per la quale l'ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l'hanno portato a privare l'individuo della libertà personale. E anche il terzo comma, che proibisce esplicitamente la tortura in qualunque forma. Ecco, allora possiamo collegare anche l'articolo 13 all'articolo 27 della Costituzione. Anche l'articolo 27 contiene alcuni principi fondamentali. Innanzitutto il principio della personalità, della responsabilità penale. Che cosa vuol dire? Che ciascun individuo è responsabile solamente delle proprie azioni, e quindi non può essere punito per un reato commesso da altre persone. Il principio poi di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Cioè ciascun cittadino italiano è dichiarato non colpevole fino a quando non sia stata emessa la sentenza definitiva che accerta la sua responsabilità penale. E il principio di umanità della pena. Inoltre abbiamo, e qui ecco, c'è uno degli elementi più importanti, che è il terzo comma dell'articolo 27. Cosa dice il terzo comma? Che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono tendere alla rieducazione del condannato. Ecco, si potrebbe parlare delle ore su questo terzo comma, che poi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro lavoro. L'articolo 27, nel suo significato di responsabilità penale, funzione rieducativa della pena, sancisce un principio importante. Cioè la nostra Costituzione prevede che accanto all'aspetto punitivo della pena si debba associare un aspetto rieducativo. Fino al 1975 il nostro era un sistema carcerario punitivo. In seguito, con l'introduzione dell'ordinamento penitenziario nel 1975, è stato introdotto uno dei pilastri più importanti, che è l'introduzione del trattamento penitenziario, ispirato ai principi di umanità e dignità della persona. L'articolo 13, infatti, dell'ordinamento parla di individualizzazione del trattamento, nel senso che il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. E chiunque può facilmente comprendere quanto sia veramente difficile cercare di conciliare la funzione, quindi l'aspetto punitivo che deve avere la pena e quindi anche l'esecuzione all'interno del carcere e la finalità rieducativa. Io dico sempre che la pena, quindi anche la sanzione all'interno del carcere, non può essere fine a se stessa, ma deve essere una pena utile. Infatti, l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario individua quelli che sono gli elementi del trattamento e tra gli elementi, quindi abbiamo l'istruzione, la religione, le attività ricreative, sportive, culturali, i rapporti con la famiglia, i rapporti con la società, ma soprattutto il lavoro. Ecco, il lavoro è fondamentale all'interno di un istituto penitenziario. Ciò a cui deve tendere la pena e quindi il carcere è fare in modo di superare questo isolamento del mondo carcerario con la società esterna. Il carcere deve essere visto come parte della società e non come un mondo autonomo ed isolato. La funzione principale della detenzione, quindi, non è quella di tendere, come dice l'articolo 27, tendere alla rieducazione. Cioè la nostra finalità è fare in modo che chi è entrato all'interno del carcere per scontare una pena possa uscire una persona diversa da quella che è entrata. Quindi è quella di trasformare il comportamento del detenuto in modo da trasmettere al detenuto un nuovo quadro valoriale. Il carcere, quindi, deve essere un luogo rieducativo perché in questo modo è importante per la sicurezza della società stessa e finché questo non viene compreso e non viene applicato rimarrà semplicemente un qualcosa di scritto. Bisogna abbattere quel muro di diffidenza che molto spesso ingoia il carcere e lo divora e che non ci rende liberi di guardare le situazioni da diverse angolazioni. Cambiare si può, è difficile, ma il nostro lavoro è proprio questo, tendere alla rieducazione, fare in modo che chi è entrato possa uscire diverso dalla persona che ha commesso reato. Dobbiamo crederci, perché questa è la nostra finalità, questo è il nostro lavoro. , bello! Grazie a tutti.